cari figli anche oggi vi chiamo sulla strada della santità pregate per conoscere la bellezza e la grandezza di questo cammino dove dio si manifesta a voi in modo particolare pregate per poter essere aperti a tutto ciò che dio opera attraverso di voi e per poter nella vostra vita ringraziare dio e rallegrarvi per tutto ciò che gli fa mediante ciascuno di voi io vi benedico grazie per aver risposto alla mia chiamata grazie a tutti grazie a tutti